Passiamo avanti, velocemente per quanto riguarda i comuni, ci sono tutti i comuni d'Italia suddivisi per provincia quindi con un clic sulla provincia vedete i dati della comune e provincia direttamente qui sotto oppure aprite il nodo, fate un clic sul comune che vi interessa e andate a vedere qui sotto i dati che sono i classici dati, l'altitudine, i gradi giorni, la qualità, l'altitudine, l'angitudine, la zona geografica i dati climatici sono quelli che riportano le radiazioni solari per i vari direzioni sud, sud-est, ovest eccetera le temperature medie, pensili e le umidità per la verificata micrometrica ponti termici, abbiamo già detto, l'archivio ponti termici riporta i vari ponti termici della norma UNI 14683 con un clic potete vedere la solita anteprima, con un doppio clic potete aprire il ponte termico quindi vedere l'immagine ingrandita eccetera sono riportati tutti i dati della norma, così come appunto sono dati il programma siccome adotta come calcolo le misure esterne utilizza il quale ponte termico? Il ponte termico lineare Psi E che è appunto quello riferito alle misure esterne in sostanza passiamo ai generatori di calore qui troviamo un elenco completo di generatori di modelli e quindi proprio con i dati completi come vedete qui sotto sempre riempi levati qui sotto oppure con il solito doppio clic potete aprire la finestra di dialogo in cui troviamo i dati magari organizzati in maniera più dettagliata qui potete vedere la potenza nominale la potenza minima nel caso in cui si ha un generatore multistadio qui possiamo definire il tipo di generatore a combustione pompa di calore, caldaia a condensazione e qua le altre varie caratteristiche la potenza elettrica del bruciatore rendimenti, seconda normativa eccetera il rendimento termico al 30 al 100% nel caso in cui si debba sostituire appunto la caldaia sono importanti questi dati e qui le perdite le perdite al cammino al bruciatore funzionante, spento lo stato di conservazione della caldaia e al mantello bene anche qua naturalmente si può intervenire quindi aggiungere e completare questo archivio poi infine abbiamo una serie di descrizioni impianto e funzioni che non sono altre che archivi in cui facciamo un doppio clic possiamo andare ad esumere delle descrizioni da riportare poi velocemente nella nostra relazione tecnica come c'è una parte descrittiva della relazione senza stare lì a scrivere basta selezionare da questi archivi qual è il dato che voglio riportare in relazione il programma lo fa automaticamente tra l'altro sono anche aggiornabili vedete si può aggiungere si possono aggiungere nuove descrizioni e quindi integrarli con proprie personalizzazioni